Decreto riaperture verso un'estate di socialità. Dal primo aprile cadono i primi obblighi, dal primo maggio apertura alla socialità. Eboli, distributore di carburante in tilt, pieni gratis per tutta la notte. Caggiano, un'ambulanza per l'Ucraina, oggi la benedizione. Polla, gentilezza e nuova vita, domenica 20, giornata nazionale della gentilezza per i nuovi nati, iniziativa promossa dall'assessore Mignoli. I fiori della speranza, un progetto dell'istituto Cicerone e una speranza onlus. Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Stop allo stato di emergenza a partire dal 31 marzo e dal primo aprile cadono i primi obblighi. Inizia il cammino verso la normalità. Ieri sera l'annuncio del governo. Vediamo i dettagli nel servizio. Ritorno alla normalità e alla socialità. Dopo due anni di paure, regole, sacrifici, attenzioni e limitazioni varie, si intravede finalmente il ritorno alla normalità. Seppur lento e graduale, dal governo sono comunque arrivati i tanto attesi segnali che potrebbero far sperare in una ripresa di quelle attività sociali e di allegria che per lungo tempo sono state bandite al fine di evitare i contatti e ridurre i contagi da Covid. L'annunciata fine dello stato di emergenza è stata confermata nella serata di ieri quando sono anche state rese note le principali novità per ciò che riguarda le regole anti-Covid. Due le date importanti che segnano la fine di una situazione emergenziale, primo aprile e primo maggio, due giorni in cui cesseranno gli effetti di alcune delle regole imposte in questi lunghi mesi. Con la fine dello stato di emergenza cesseranno anche i poteri e l'operatività del Comitato Tecnico Scientifico e del Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Stop anche al sistema dei colori per le regioni, finalizzato ad un'analisi della situazione pandemica e per prevedere misure più o meno restrittive in base ai contagi. La situazione dei contagi regione per regione resterà monitorata ma non scatteranno misure restrittive e limitate ad aree territoriali. Per ciò che riguarda l'allentamento delle regole, novità importanti per tutte le attività all'aperto. Dal primo aprile non sarà più necessario esibire il Green Pass per usufruire dei servizi di ristorazione barra all'aperto. Resterà in vigore solo l'obbligo di esibirlo per le consumazioni al chiuso, ma solo fino al 30 aprile, data che segnerà anche lo stop all'obbligo di indossare la mascherina anche al chiuso. Il primo maggio, infatti, aprirà ulteriormente le porte che conducono alla normalità vista la decadenza dell'obbligo di Green Pass e mascherina anche al chiuso ed anche sui mezzi pubblici. Resta in vigore l'obbligo di vaccini per il personale sanitario e dell'RSA, così come resterà l'obbligo di vaccino per gli over 50 fino a 15 giugno. Novità anche nel mondo della scuola, dove non sarà più necessario ricorrere all'isolamento per il solo contatto con soggetto risultato positivo al Covid. Un discorso valido per tutti con l'adozione del regime dell'autosorveglianza in caso di contatto con soggetto positivo. Quanto finora previsto per chi aveva ricevuto la somministrazione della terza dose di vaccino, sarà ora applicata a tutti coloro che hanno avuto contatti con un positivo accertato. Di conseguenza per loro sarà in vigore solo l'obbligo di indossare la mascherina e di verificare alla comparsa di sintomi se è stato contratto il virus. L'obiettivo del Governo, come spiegato dal Premier in conferenza stampa, è quello di riconquistare la nostra socialità e riaprire la nostra economia. Un guasto nella notte al sistema di erogazione ad un distributore di carburanti ad eboli scoperto da clienti fanno accorrere sul posto parenti e amici per pieni gratis. Vediamo. Un guasto di notte al sistema di erogazione del self-service a un distributore di carburanti ad eboli tra località Taverna Nova e Santa Cecilia, scoperto da clienti che fanno accorrere sul posto anche parenti e amici per rifornimenti gratis da 20 euro. È pari da un ammontare di circa 20.000 euro. E quanto accaduto ed appurato, nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia Municipale Bolitana, diretti dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri, i gestori hanno rinvenuto di mattina ai serbatoi vuoti e visionando le telecamere di videosorveglianza, si sono accorti del furto notturno, contattando immediatamente le forze dell'ordine con la denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Santa Cecilia. Proprio la visione delle immagini ha consentito di risalire all'identità dei lati di carburante. Dagli occhi elettronici si evince l'arrivo di gente per tutta la notte con veicoli in fila, ma anche di chi a piedi con utilizzo di tanniche e contenitori vari ha fatto incetta di gasolio e benzina, andando poi via. Ieri però, fanno sapere dagli uffici della Municipale Bolitana, alcuni si sono presentati al distributore di carburanti nella periferia ebolitana, pagando quanto dovuto per evitare la denuncia. A Cagiano oggi la benedizione dell'ambulanza rianimativa che la Gopi Ampas ha deciso di donare per il popolo ucraino. Vediamo i dettagli. Benedizione nel pomeriggio di oggi dell'ambulanza rianimativa che la protezione civile Gopi Ampas di Cagiano ha deciso di donare per l'Ucraina. Dopo l'appello nei giorni scorsi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Ministero della Salute per aiuti concreti al popolo ucraino con la messa a disposizione di ambulanze attrezzate, la Gopi di Cagiano ha infatti deciso di donare una delle proprie ambulanze da inviare in soccorso alla popolazione ucraina per fronteggiare le necessità derivanti dal conflitto in corso. L'ambulanza di tipo rianimativo è stata ultimata con un allestimento adatto per scenari di guerra con attrezzature anche tecnologiche, salvavita e presidi sanitari. Il completo equipaggiamento è stato acquisito grazie al contributo di diversi enti del territorio tra i quali la Fondazione Caritas Salerno, la Fondazione San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, il Rotary Club di Salerno Duomo Salerno 1949, il Comune di Cagiano e la pubblica assistenza Gopi. Un aiuto concreto dunque l'ambulanza per l'Ucraina che si aggiunge alle altre importanti iniziative messe in campo a Cagiano, ma anche negli altri comuni del territorio valdianese nelle ultime settimane per dare una mano alla popolazione colpita dalla guerra. Dopo la benedizione, nel pomeriggio di oggi, nella piazzetta antistante la Chiesa Madre del Santissimo Salvatore, nel centro storico di Cagiano, nei prossimi giorni, su indicazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, si effettuerà il trasferimento in territorio ucraino. L'ambulanza, ha precisato il sindaco Modesto la mattina, è stata donata dalla Gopi Ampas. Le attrezzature salvavita e medicinali sono stati donati dalla Caritas, Fondazione San Francesco e Rotary Salerno. Il Comune ha invece dato un contributo per il trasferimento in Ucraina. L'ambulanza dovrà arrivare ad Udine e poi il Dipartimento Nazionale la farà arrivare a destinazione. Un aiuto concreto, ha concluso il sindaco, che durerà anche nel periodo di pace, sperando che arrivi presto. A Polla si moltiplicano le attività finalizzate a promuovere gesti di gentilezza e senso di comunità. Domenica 20 marzo, in piazza Monsignor Forte, una nuova iniziativa promossa dall'assessore alla gentilezza Federica Mignoli per dare il benvenuto ai nuovi nati nella comunità. Vediamo i dettagli. Si celebrerà per la prima volta domenica 20 marzo 2022 la giornata nazionale della gentilezza per i nuovi nati a Polla, dopo che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso, con delibera di giunta dello scorso 8 marzo, ha deciso di istituirla nell'ambito delle attività promosse dall'assessorato alla gentilezza e dalla delegata Federica Mignoli come membro della rete nazionale degli assessori alla gentilezza. Si tratta di un'iniziativa che in realtà rappresenta un seguito di un progetto già avviato da anni a Polla e che prosegue con successo, rivolto prevalentemente a dare il benvenuto ai neonati pollesi quali nuovi membri della comunità. In tal senso si pone la giornata che, facendo seguito all'iniziativa svoltasi lo scorso anno e denominata Welcome on Board, l'amministrazione Loviso intende omaggiare della Costituzione italiana ogni bambino nato nel 2021 e a dimostrazione del valore della vita sarà messo a dimoro un albero per ciascun nuovo nato alla comunità pollese lo scorso anno. L'appuntamento di domenica prossima 20 marzo alle ore 11.30 in piazza Monsignor Forte sarà anche occasione per presentare un'installazione che si lega al tema della giornata, ma soprattutto al legame tra alberi e vita. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, spiegano dall'amministrazione comunale pollese, dare il benvenuto al nostro futuro attraverso questa iniziativa allo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire. Continua quindi il progetto e il lavoro dell'assessore alla gentilezza del Comune di Polla, Federica Mignoli, che sta portando avanti una serie di iniziative in collaborazione con enti ed associazioni varie, collaborando attivamente con l'associazione Cor e Tamor, che coordina la rete nazionale degli assessori alla gentilezza. Sono varie le iniziative nell'ambito di questo progetto nazionale che stiamo portando avanti, spiega l'assessore Mignoli, per sensibilizzare al buon vivere, all'attenzione per il prossimo, per valorizzare e coinvolgere la comunità in un momento di unione. L'installazione che andremo a presentare, spiega, ha un valore altamente simbolico legato all'iniziativa che abbiamo ideato. Ringrazio la collega consigliera Luisa Trafuoci, che ha coordinato il lavoro per la piantumazione degli alberi che saranno messi a dimora in un luogo fruibile e visitabile dalla comunità. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il progetto I Fiori della Speranza, una iniziativa solidale realizzata dall'associazione Una Speranza Onlus e dall'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo il servizio. Torna a Sala Consilina il progetto I Fiori della Speranza, realizzato dall'associazione Una Speranza Onlus e dall'Istituto Cicerone. Partito nel 2019, era rimasto fermo per via della pandemia e ora viene riproposto. È una campagna di raccolta fondi ad opera degli studenti dell'Agrario. Ogni giovedì fino a maggio, durante il mercato settimanale salese, nello spazio antistante il plesso del liceo classico di Via Matteotti, i ragazzi predisporranno uno stand dove sarà esposta una varietà di piante coltivate nelle serre. Le piantine potranno essere acquistate e il ricavato sarà devoluto all'associazione Una Speranza Onlus. Il progetto, spiega la dirigente scolastica Antonella Vairo, si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni su tematiche sociali importanti, quali la fratellanza e l'integrazione, per valorizzare le capacità dei diversamente abili, favorendo la cultura del superamento delle barriere mediante il volontariato. Si ritengono molto soddisfatti delle finalità didattiche, socioculturali e degli accordi del progetto, i docenti Sergio Moccaldi, coordinatore di indirizzo, Roberto Labbanca, che dirige e organizza il piano di lavoro, e Marianna De Vita, promotrice del progetto, che anticipa di altre collaborazioni in programma tra l'associazione Una Speranza Onlus e gli studenti dell'agrario di Sala Consilina. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti a tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale. San Rufo e Piaggine aderiscono alla campagna di screening gratuito della Cervice Uterina, Crisalide, al via alle prenotazioni sul sito dedicato. Vediamo. Appuntamento con la prevenzione per la salute femminile a San Rufo e a Piaggine, i due comuni infatti aderiscono al nuovo screening gratuito della Cervice Uterina, Crisalide, promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per l'identificazione dell'infezione da papilloma virus umano attraverso l'innovativo metodo diagnostico del Full Pap Test. A San Rufo l'amministrazione comunale fa sapere che lo screening sarà effettuato presso la residenza comunale, mentre a Piaggine gli esami nel mese di aprile saranno ospitati nelle sale del convento dei Cappuccini. La campagna di prevenzione oncologica è promossa dalla Regione Campania in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la Fondazione Nazionale Tumori Pascale e il Dipartimento di Salute Pubblica Federico II. Lo screening, che prevede un esame diagnostico più completo e accurato rispetto al Pap Test tradizionale, è rivolto a tutte le donne campane di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Per prenotarsi è necessario collegarsi sul sito dedicato e compilare il form. In alternativa, entrambi i comuni mettono a disposizione dei numeri di telefono a cui rivolgersi e inoltre ci si potrà arrecare al Comune di San Rufo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il papillomavirus è la prima causa di tumori alla cervice uterina. Le donne che si sottopongono a programmi di screening hanno ottime probabilità di guarigione. Il tumore alla cervice uterina rispetto agli altri tumori può essere curato molto efficacemente se riconosciuto in tempo, in quanto caratterizzato da un'evoluzione piuttosto lenta. È fondamentale dunque per la prevenzione sottoporsi al test. Il progetto regionale complessivo prevede il reclutamento di 15.000 donne campane. Ieri a Camerota un interessante convegno sul turismo esperienziale voluto dal Consorzio Cilento di Qualità che incontra l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Tantissimi gli imprenditori che hanno preso parte all'evento, molto soddisfatti gli organizzatori. Vediamo i dettagli. Ieri l'evento turismo esperienziale organizzato dal Consorzio Cilento di Qualità tenutosi al Centro Sociale Polifunzionale di Marina di Camerota. È stato un confronto tra gli imprenditori turistici del Basso Cilento e le istituzioni. Un bilancio più che positivo, dicono soddisfatti gli organizzatori. C'erano la regione Campania, i comuni di Camerota, Centole e Pisciotta, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il FLAG, i Porti di Velia e il GAL Casa Castra. A rappresentare la regione, l'assessore al turismo Felice Casucci, che al mattino ha incontrato a porte chiuse, insieme al presidente del Consorzio Sandro Legato e al vicepresidente Pierluigi Troccoli, gli imprenditori per discutere dello sviluppo turistico del territorio e della programmazione di azioni concrete per istituire una rete sinergica di collaborazione e cooperazione. Dopo l'incontro si è tenuto il convegno aperto a tutti. Tantissimi gli imprenditori che hanno preso parte all'evento in cui si è parlato di turismo a 360 gradi, in particolare di turismo esperienziale che si fonda sull'interazione del turista con il territorio. Nella seconda parte della giornata poi un evento dedicato ai fornitori del Consorzio che hanno presentato agli imprenditori cilentani le novità e le promozioni in vista della prossima stagione turistica. Poi ancora un momento di confronto tra fornitori, consorziati e affiliati con la presentazione della piattaforma cloud dedicata alla digitalizzazione dei processi interni per il Consorzio Cilento di Qualità e infine la presentazione del progetto del FLAG, i porti di Velia, e un confronto tra pescatori, ristoratori e imprenditori turistici. In programma il restyling del Centro Cittadino e del Lungomare San Marco di Agropoli. I lavori prenderanno il via lunedì prossimo 21 marzo con la posa della prima pietra. Vediamo. Prenderanno il via il prossimo lunedì 21 marzo i lavori di restyling del Centro Cittadino e del Lungomare San Marco di Agropoli alle ore 17 e in programma la posa della prima pietra. Le opere, programmate già nei mesi scorsi, consentiranno di procedere al rifacimento dei giardini caduti di Nasseria, alla riqualificazione della fontana, alla sistemazione dell'arredo urbano nell'isola pedonale. Nell'ambito del medesimo intervento verrà garantita anche la missa in sicurezza del marciapiede del Lungomare San Marco, che a causa dell'usura necessitava di interventi di manutenzione. La prossima settimana prenderanno il via i lavori, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola. Si tratta di opere importanti per dare un nuovo volto al Centro Cittadino e assicurare la missa in sicurezza del nostro Lungomare. Le opere erano state programmate nei mesi scorsi, anche in seguito a confronti tra i commercianti e il consigliere Franco Di Biasi, che ha seguito l'iter progettuale. Purtroppo la burocrazia e l'emergenza Covid hanno rallentato l'apertura del cantiere. Adesso siamo pronti a ripartire e nei prossimi giorni avvieremo altre importanti opere pubbliche per la nostra città. Questi lavori riqualificheranno l'isola pedonale e le aree limitrofe, ha spiegato il consigliere delegato ai lavori pubblici Franco Di Biasi. Si tratta di un'opera importante, fortemente voluta ed avviata anche da un confronto con gli esercenti, che hanno avanzato idee e proposte. Il nostro intento è quello di restituire al Centro Cittadino la sua reale vocazione di salotto di Agropoli, garantendo qualità, decoro, pulizia e sicurezza per quanti lo frequentano. La nostra attenzione però è rivolta anche al Lungomare San Marco, che sarà sottoposto alla necessaria manutenzione. E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi, grazie per averci seguito. Continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.